Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti In un nuovo video rogna Piccola cheat per il nostro sponsor che ci supporta ormai da anni Perché il codice sconto che trovate sempre qua sotto in descrizione Ovvero il PD20 Per tutto il mese di novembre non vi dà più il 20% ma il 30 Quindi se dovete acquistare anche licenze nuove Windows 11, Windows 10, quello che volete Li trovate qua sotto Come vedete siamo ancora qua È già, come direbbe Vasco Rossi Ma perché siamo ancora qua Perché non siamo partiti Esatto ragazzi La sfiga ci ha visto benissimo Ovviamente non vogliamo fare le piangine Ci sono cose ben peggiori nella vita che possono succedere Poi in questo periodo Soprattutto Però assolutamente È una cosa che sinceramente non accade tutti i giorni Non accade a tutti È un sogno fin da piccolo Da appassionati estremi come noi Del mondo tech Quando un'azienda del genere ti invita A conoscere gli ingegneri A vedere le fabbriche E poi il giorno prima di partire Ti annullano il tour Stam Porsca Un po' Giustamente però Specifichiamo perché Giustamente noi dovevamo partire questo lunedì Ma Israele ha chiuso i confini Proprio nella mezzanotte Tra domenica e lunedì Quindi giustamente il tour è stato annullato Per ovvi motivi E mi viene da dire anche meglio così In questo senso Beh guardando No vabbè Non è il caso di addentrarci No esatto Anche perché Israele è il paese sovrano Decide lui Fa il cazzo che vuoi Ognuno può avere le proprie opinioni Su queste prese di posizioni Sulla nuova variante Ma non è questa la sedia No no esatto esatto Per Il rischio sostanziale era quello di andare là E poi rimanere blindati là Per 14 giorni Per questioni di quarantena obbligatorie Eccetera eccetera Quindi ovviamente Intel ha annullato il tutto E se prendevi il covid Probabilmente ti facevi il Natale La Tel Aviv Che bello Come Tel Aviv bene In buona sostanza quindi Tutto quello che avevamo anticipato Dove farci le domande Da fare poi agli ingegneri No Non sa da fare No Ovviamente speriamo Che sia solo un incidente Di percorso E che questa cosa Possa essere rinviata In futuro Paradossalmente anche Magari guadagnandoci Perché uscendo Anche Le GPU Intel Magari potremmo Prendere informazione Anche per quello Però vi ricordo Che dovrebbe essere Proprio un altro team Un'altra cosa Sì sì E probabilmente Commissioneranno anche Parte del lavoro Perché non la produrrà No è commissionata Esatto Su TSMC Le nuove Intel Arc Per cui probabilmente Seguito da altre sedi Americana O altro Che gestiscono direttamente Poi con Taiwan La produzione Di queste schede Per cui non è neanche detto Che possiamo sapere Qualcosa di più No infatti Non è detto niente Molto probabilmente Ci sarà più Da parlare di processori Magari future generazioni Visto che si rimanderà Sicuramente di qualche mese Quanto meno Perché adesso Dobbiamo vedere come Va avanti questa situazione Però nel caso In cui venisse Riorganizzato Tutta questa Pantomima Tutto questo cinema Sarà sicuramente Più in là Esatto La cosa figa Era anche perché Abbiamo Intel Alder Lake Desktop Che conosciamo Abbiamo visto E abbiamo apprezzato Enormemente Se non fosse Per la DDR5 Introvabile La piattaforma Economica Sarebbe una Delle migliori Gen di processori Da un bel po' Soprattutto la fascia media Però c'è anche Le versioni notebook Che ovviamente Arriveranno Nei prossimi mesi Che devono andare A rivaleggiare Con questi Per cui Avere Un prodotto nuovo Vedere qualcosa Un'architettura nuova Questa architettura Che su PC È molto energivora Come difetto Abbiamo detto Che consuma Ed è energivora E anche scaldicchia Tanto Perché sull'inno Veramente Boom Vederla ottimizzata Per notebook E per mobile Sicuramente è curiosa Come cosa Ci interessava parecchio Ci sono Ovviamente C'è da vedere Quel lato lì Quindi se dovessero Posticiparla A anche magari Primavera inoltrata Dell'anno prossimo Potrebbe essere interessante Sì però A quel punto Saranno già usciti A quel punto Saranno già usciti A quanto sembra Dovrebbe uscire A inizio anno Al CS Ci dovrebbe essere reveal Questo c'è Sembra parecchio interessante Tra l'altro Eh sì Quest'anno veramente sì Quest'anno ci sono Delle belle novitate E non solo da parte D'Intel Perché Intel avrà Sia quello Sia le schede video Molto probabilmente Che le farà vedere E poi ci sono Anche tutti gli altri In coda ovviamente Però insomma Dovamo andarci A fare un giro a Tel Aviv Vedere questa città Magari c'era anche Gal Gadot in giro Sicuro però Lì così Nella fabbrica Smistare I die La cosa che dispiace Di più È che Queste occasioni Noi ormai Facciamo questo lavoro Da un po' di anni Quindi sappiamo un po' Come gira il fumo Queste occasioni sono Rare Molto rare I tour in fabbrica Per andare a vedere Proprio la produzione Sono cose che le aziende Organizzano Veramente una volta Ogni dieci anni E quando lo fanno Ogni lustro Per cui È dispiace Averla saltata A questo giro La speranza È quella che Si riorganizzi Ovviamente Non essendo saltato Per motivi Chissà che cosa Nostri appunto Ma per motivi Più grandi Probabilmente Ci sarà l'occasione In futuro Vedremo Speriamo Incrociamo le dita Altrimenti Ci rivediamo Quando abbiamo 40 anni Mi ho fatto veramente Io soprattutto Mettetevi nei miei panni Lui Alessandro Mordentech Alvi Blink Hanno girato Ormai un sacco di cose Ho visto Io non ho ancora visto Niente Niente Infatti sto rosicando Tantissimo Perché Questa era la prima volta Non sono andato al CS Non sono andato a Taipei Non sono andato Lui ha già visto Le fabbriche di Zotac Taipei Il CS non si è andato Il CS no Non ci sono andato Però sei andato a Berlino All'IFA Le ha fatte tutte Mobile Tutte quelle robe lì Sì Tranne il CS E quello di videogiochi a giugno Vabbè giustamente Che però adesso sta morendo come fiera Come evento Neanche alle 3 sono mai andato Alle 3 intendevo Ah ok Pensavo l'altro Però è una fiera che ormai sta Però all'altro al Gamescom potremmo andare Come utenti normali Al Gamescom Farci fare i selfie Sì adesso non mi sembra il caso Perché Alle 3 c'è poca gente Quindi puoi anche andare Ma al Gamescom c'è Il mondo Il mondo Per cui non è il caso in questo periodo forse Non direi Però ecco Anche per quello Perché eventi comunque grossi Totali Dove c'è tutto il settore Attualmente Non è neanche il massimo Andarci Non solo per il rischio covid Perché comunque siamo vaccinati relativamente giovani Però anche il fatto che Metti che te lo prendi dieve Ti stai là un mese È quello il fatto Ho chiuso una camera d'hotel Io Anche mio padre Ha dei colleghi Che sono fatti un mese in hotel A guardare il muro E pagare Blindati tra l'altro Pagare una cifra folle di hotel Perché l'assicurazione magari non te lo riconosce Cioè Non è il massimo È il problema che tutto questo casino Allunga per forza i tempi dei viaggi Quindi viaggi corti Da qualche giorno Una settimana massimo È difficile farli Finché stiamo Messi così Quindi fa quarantena Quarantena obbligatoria Guardate quanti casini vengono fuori per l'Inghilterra Per star là più giorni Adesso a Natale non si può o tornare o venire Perché devi fare la quarantena di una settimana Puoi fare quattro tamponi Eccetera eccetera Quindi Anche l'anno prossimo Vediamo con le varianti Se le varie fiere grosse Computex Eccetera eccetera Verranno riproposte Non solo per il covid in sé Ma anche proprio per Quanto diventa Farraginosa l'organizzazione Esatto Tutto quanto Perché se devi impiegare Un mese O tre settimane Per star là a fare una ferie Quattro giorni Anche no Anche perché Tutto ora Vi ricordo Noi lavoriamo Quindi dovremmo Lavorare in ferie Perché noi prendiamo le ferie Andiamo là a lavorare Già la cosa Mi fa uscire di testa Esplode tutto Se prendo le ferie Non faccio un cazzo ragazzi Io sto rosicando veramente tanto Perché Ce l'eravamo pregustata Intel ci ha detto Non dite nulla Non dite nulla Non dite nulla Non dite niente Era meglio La bandetta al Black Friday Era meglio che non dicevamo Un cazzo Però ci tenevamo Di farvi fare almeno una domanda Un ingegnere Intel E' andata così ragazzi Speriamo si possa riproporre Riproporremo nel caso Dovesse succedere Appunto nei prossimi mesi Questa Diciamo proposta a voi Quindi di farci le domande Di modo da poterle riproporre a loro Quindi non vi preoccupate Riaccadrà Se dovesse essere Speriamo E ringraziamo comunque Intel Per la pazienza La disponibilità E tutto E la super organizzazione Perché alla fine Ci hanno avvisato Super in tempo E per comunque averci Dato la possibilità Di poter partecipare A questo evento Che comunque Non è proprio da poco Anzi È un orgoglio personale Poter andare In un'azienda Di questo tipo E vedere Come funziona E come lavora Infatti Quindi fateci sapere Cosa ne pensate Se siamo Sfigati atomici O se doveva andare così Hashtag Sfigati atomici Sicuro Fateci sapere Tutto quello che volete D'altro si è spaccato Anche Simon Kier Per cui sto piangendo Dentro io Alla prossima ragazzi Alla prossima